Cari amici del della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli, ben ritrovati, oggi è martedì 7 marzo e insieme continuiamo il nostro cammino in questo tempo di Quaresima sulle orme del Maestro, ascoltando la parola del Vangelo del giorno. Insieme vogliamo invocare, come sempre, lo Spirito Santo perché possiamo cominciare anche questa giornata avvolti dalla Sua luce, illuminati anche dalla parola del Vangelo che ascolteremo, accompagnati dalla Sua grazia e dal Suo amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora in noi, senza indugio, discendi, o Spirito Santo, unità sola con il Padre e con il Figlio, benigno ancora nei cuori effonditi. Bocca, lingua, intelletto, sensi e forze cantino la Tua lode. Divampi in noi la fiamma del Tuo amore, fino ad accendere chi ci è vicino. Amen. Insieme, allora, ascoltiamo, dopo aver invocato lo Spirito Santo, il Vangelo che ci accompagna in questa giornata. Siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 23, versetti da 1 a 12. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai Suoi discepoli, dicendo «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciano dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoge, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Credo che tutti noi abbiamo presente tanti cibi, tante bevande che per il loro procedimento o per il luogo nel quale vengono prodotti, appunto, sono tutelati attraverso alcune certificazioni, alcuni bollini, potremmo dire. Pensiamo al DOC, all'IGP, al DOCG e a tante altre sigle che magari caratterizzano determinati cibi, determinate bevande. Ecco, potremmo dire che dai monti al mare, dalle colline alle pianure, la nostra Italia è piena di queste specialità. Ecco, parto da questo esempio perché il Vangelo che ci accompagna in questa giornata, nella continuazione del nostro cammino quaresimale, certamente ci fa vedere una cosa molto chiara. Abbiamo il rischio, ci dice Gesù, di correre un pericolo. Davanti agli altri, esternamente, possiamo far finta di seguire Dio, di vivere il suo amore, ma magari la nostra vita è distante da Lui. Sembra di riascoltare nello sfondo le parole dell'Antico Testamento, il profeta Isaia, quando appunto diceva, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Il Vangelo di oggi allora ci ricorda che abbiamo bisogno di una autenticità che dobbiamo cercare, che è poi l'autenticità dell'amore di Dio, che è appunto il cercare di vivere secondo il Vangelo. un impegno che dura per tutta la vita, ma dentro il quale tutti siamo inseriti e dentro il quale tutti siamo chiamati a camminare. Avremmo rischio infatti, se non ci mettiamo in ascolto della parola di Dio nella nostra vita quotidiana, di perdere il gusto del suo amore. Un po' come quei cibi contraffatti appunto dove si cerca di far assomigliare un formaggio per un formaggio molto famoso, oppure un vino che in realtà è scadente per un vino che proviene magari da una zona DOC o di OCG e così via. Cibo quindi contraffatto che esternamente sembra uguale agli altri, ma che in realtà manca di un gusto vero e proprio. E per la nostra vita, beh, per la nostra vita abbiamo bisogno di lasciarci lavorare dalle mani sapienti di Dio, ed è questo il cammino della nostra conversione, proprio perché possa emergere il gusto del suo amore nelle nostre scelte, nelle nostre parole, nella nostra vita di ogni giorno. Gesù si trova a Gerusalemme e nel Vangelo che abbiamo ascoltato, dopo aver dibattuto con gli scribi e con i farisei, si esprime in modo molto forte, lo abbiamo sentito. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Scrive, i farisei appunto hanno il rischio di mettere davanti a loro se stessi, non Dio, non il suo amore. Gesù non mette in discussione ciò che dicono, magari questo è sacrosanto, ma mette in discussione il modo con il quale uniscono le loro parole e la loro vita. È il pericolo che noi abbiamo a volte di vivere una vita doppia appunto, staccata dal Signore, staccata dal suo amore, ma automaticamente staccata anche dalla vita degli altri. Gesù esprime in modo molto plastico tutto questo, con esempi che proprio i discepoli e la folla potevano comprendere. Ci parla ad esempio di questi filatteri. Che cosa sono questi filatteri? Sono queste scatolette collegate, magari legate con delle frange al polso, al braccio appunto, e anche nella testa, che servivano per contenere alcuni versetti della parola di Dio. Quasi a dire vedi che io appunto seguo la parola di Dio, l'ascolto, la faccio qualcosa di importante per la mia vita. Ecco, anche alcuni altri atteggiamenti che Gesù sottolinea un po' ricalcano questo pericolo della doppiezza della vita. Questi scrivi e farisei appunto cercano i primi posti, l'abbiamo sentito, vengono chiamati, si fanno chiamare rabbì dalla gente, si fanno chiamare appunto padre. Tutti atteggiamenti che potremmo sintetizzare forse in una espressione più vicina a noi. Si fanno vedere e anche questo è un rischio che a volte noi abbiamo. Gli esempi allora di Gesù ci fanno vedere che ci sono degli atteggiamenti che ci allontanano da Dio e ci allontanano dagli altri. Però se Gesù rivolge ai discepoli e alla folla queste parole, lo dice da una parte per farci stare attenti, ma dall'altra parte anche per cercare una via d'uscita, per cercare potremmo dire in questo tempo di Quaresima in modo speciale un passo di conversione verso di Lui, verso il Signore dietro le sue orme. E allora per recuperare tutto questo Gesù ci invita a tornare alle origini della nostra esperienza di fede, o meglio a colui che dà origine a tutto questo. Sembra quasi che il Signore ci dica vuoi vivere una vita davvero originale, vuoi vivere una vita autentica. Mira al Signore, mira al suo amore. Uno solo è il Padre tuo e voi siete tutti fratelli. Uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Non si tratta qui di avere bollini, ma si tratta di fare in modo che la nostra vita venga lavorata continuamente ogni giorno dall'amore di Dio. E dall'altra parte, anche se costa qualcosa in più, sarà davvero una vita autentica, sarà davvero una vita piena di gusto. E questo invito che il Signore ci fa non è solamente un invito a farci lavorare dal suo amore, ma ancora di più ad essere testimoni nel nostro quotidiano del fatto che Dio è presente nella nostra esistenza in modo semplice e non ci fa mancare niente. Ci dona il suo amore, che è ciò di cui davvero abbiamo bisogno, ciò che davvero dà gusto alla nostra vita. Sant'Ignazio di Loyola lo ha espresso così anche negli esercizi spirituali. Non è il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e il gustare le cose internamente. Abbiamo allora bisogno di recuperare questo gusto anche dentro alle nostre parole, dentro alle nostre scelte. E Albino Luciani ci avrebbe anche ricordato che dobbiamo essere bassi bassi, vivere quella umiltà nel quotidiano come ci invita a fare Gesù, sapersi mettere a servizio della buona notizia del Vangelo per far vedere quella originalità e quel gusto che solo Lui può donarci. Per non vivere quindi una vita che esternamente sembra bella, ma che in realtà non lascia spazio alla gioia vera che il Signore ci dona. Lasciamoci allora lavorare dal Signore, pazientemente, sapientemente. Lui saprà quali passi aiutarci a vivere dentro a questo tempo di Quaresima che ci porta alla Pasqua. E Lui certamente ci farà sentire il gusto del suo amore che non viene mai meno. Mi viene in mente anche la bella figura del beato Carlo Acutis che anche dentro alla nostra diocesi stiamo un po' riscoprendo attraverso la mostra su di lui e sui miracoli eucaristici che lui aveva pensato. Ecco aveva una bella frase, tutti nascono originali ma molti muoiono come fotocopie. Ecco chiediamo al Signore davvero anche attraverso la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato che possiamo recuperare passo dopo passo quella originalità, quella autenticità, quel gusto vero che il Signore continua a donarci. Lo possiamo fare se davvero gli diamo spazio nella nostra vita. E per fare questo invochiamo la benedizione di Dio in questa giornata su ciascuno di noi perché Lui possa accompagnarci nella nostra vita, nei nostri passi. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, sia davanti a te per guidarti, dietro a te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti l'augurio di una buona giornata e arrivederci a domani. Grazie a tutti.